buon salve cari pixelini e benvenuti ben tornati in questa nuova fantastica avventura di harry potter o guads misteri ragazzi siamo qui per continuare l'avventura del cavallo scuro ragazzi mamma mamma ma bisogna affrontare merula e insomma convincerla ragazzi a fare questa bellissima missione e presumo che sia la seconda affronta merula ragazzi c'è merulina qua che non vuole assolutamente aiutarci con il testral ma noi dobbiamo convincerla sei gentile ad aiutare agrid perché ho scelta ragazzi che c'è anche noi professori abbiamo bisogno di prendere una boccata d'aria ogni tanto non ho detto niente prof stai lavorando con i testral come ti invidio e ragazzi perché non abbiamo preso l'its perché merula che cavolo l'its top merula mie eccoti qui rocky sei pronto a far cambiare idea sui testral merula tantissimo ora che mi sono esercitato a presso a persuadere i miei amici sì davvero l'ho fatto forse potrei addirittura usare alcune delle tecniche persuasive che ho imparato nel tuo discorso agrid sì lo farò senz'altro sì poteresti usarle in effetti però grazie per avermi suggerito di provare la mia dimostrazione su merula e anche per aver accettato di affiancarmi in quel compito è stato un piacere agrid mi sono fatto una notevole esperienza discutendo con merula tanto vale farne buon uso se giustamente sono un po preoccupato però e se non riusciamo a convincere merula non succederà e io dico non succederà perché lei è orgogliosa le diremo qualcosa o almeno spero per convincerla a fare a fare diversamente tipo è merula però ti arrendi così una grande strega così che si arrende io direi così fatemi sapere voi cosa avete scelto e che è successo non succederà agrid sai praticamente tutto quello che c'è da sapere sui testral sì ma cosa c'entra merula però quindi potrei sfatare qualsiasi pregiudizio che merula o la confederazione nutra su di essi in questo senso sì sei pronto devi solo avere fiducia in te stesso grazie roki era proprio quello che avevo bisogno è proprio ciò che avevo bisogno di sentire mi fa molto piacere agrid ora andiamo a parlare con merula tan 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 salve merulina merula dobbiamo parlare riguardo al fatto che ho abbandonato il vostro piccolo progetto te l'ho detto mi tiro fuori non voglio più vedere quel qua quel cavallo inquietante i testral non sono inquietanti sono solo un po diversi tutto qui ma fammi piacere diverso è solo un eufemismo per strano guarda merula noi vogliamo solo che che ascolti ciò che abbiamo da dirti ma è una perdita di tempo perché dovrei perché i testral meritano che gli dai una possibilità agrid è leggermente in difficoltà buona questa perché finché non lo farai non ti lasceremo in pace e conoscendoti so che non scherzi affatto d'accordo ascolterò quello che tu e agrid avete da dire ma non aspettatevi che cambi idea tutto questo ci costerà la bellezza di tre ore di energia bene ma non benissimo eccoci qua voi non capite spiegaci allora non dovresti giudicare una creatura dal suo aspetto è difficile persino per una come merula ribattere alle osservazioni di agrid la gente convinta che i testral sono cattivi solo perché sono associati alla morte per quanto odia ammetterlo non hai tutti i torti è pericolosi sciocchezze è più pericoloso un asticello che un testral non ne sono proprio sicuro però può essere se i testra sono così gentili perché il ministero li ha li valuta x x x x le valutazioni con le x sono le valutazioni di pericolosità delle creature magiche perché hai tutta questa antipatia per i testral merula e in effetti perché il ministero non dovresti giudicare una creatura dal suo aspetto questo abbiamo già letto ragazzi mi sa che abbiamo letto tutto quanto di già andiamo a vedere qua cosa dice rocky rocky voglio rocky eccoci qua pensaci merula credi davvero che la gente cavalcherebbe una creatura pericolosa voglio ancora rocky perché mi sa che rocky c'ha qualcosa altro da dirci è difficile ok ragazzi abbiamo detto tutto abbiamo anche finito l'energia ma l'abbiamo anche ricaricata ed eccoci qua con tutte le 5 le stelline mi raccomando lasciate un bel mi piace per supportare il canale forza ore coraggio andate qua sotto mettete un bel mi piace a voi non costa nulla non da niente però mi da un grosso grossissimo supporto l'hai fatto l'hai fatto sono un po come rocky finché non lo fai non vado avanti dai dai lo so che non l'hai fatto eh raccomando te 5 le stelline e siamo pronti ad andare avanti ma 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 vedi merula i testral non sono pericolosi ma semplicemente incompresi la gente pensa che sono di cattivo auspicio a causa del loro aspetto e per il fatto che sono associati alla morte ma giudicare in base a dei preconcetti è il torto più grande che puoi fare a qualcuno creature incluse soprattutto perché l'idea che i testral sono cattivi è lontanissima dalla verità e comunque da quando in qua sei il tipo di persona che si preoccupa di una cosa come la sfortuna oh eccoci qui volevo essere qui volevo vedere qui volevamo arrivare devo ammettere che le vostre osservazioni sono ragionevoli ma resta il fatto che non voglio testral fra i piedi perché spiegacelo cioè ti ricordano cosa capisco hai troppa paura aia l'abbiamo detto io non ho paura abbiamo detto le parole magiche le parole magiche allora aiuta me agride a far abituare ryuk agli stranei e va bene ma quando avremo finita non voglio aver non voglio sentire più parlare di queste sciocchezze l'avevo detto che la convincevamo parole magiche hai paura che nessuno dica che non so lavorarmi merula ce l'abbiamo fatta rocky abbiamo convinto merula a dare un'altra possibilità ai testral la maggior parte del merito è tuo io le ho solo dato una spintarella a no in realtà agride poteva anche star zitto poteva andare da merula semplicemente dire quindi non vuoi occuparti di testral perché paura e lei avrebbe detto non è vero ti aiuto io ti faccio vedere io quindi agride non città niente ma il nostro lavoro non è ancora finito merula ha ancora qualcosa che la rende titubante nei confronti di testral e penso che entro alla fine della della missione lo scopriremo ma un'esperienza positiva con un testral potrebbe abituarla a superare le sue situazioni e a considerare i testral sotto una luce migliore in tal caso ti consiglio di lavorare con ryuk ancora un po prima di passare la mano a merula però vorrei dire come fa merula arrivare al castello ogni volta perché comunque deve salire su una carrozza trannata da testral è meglio che ryuk non si spaventa di nuovo di fronterei e merula potrebbe far prendere perdere la pazienza anche al testral più gentile questo secondo me vuol dire porta a livello massimo ryuk però noi l'abbiamo già fatto vediamo un po se è così raggiungi la fiducia massima con il testa l'abbiamo già fatto e quindi sono pronta a fare pratica andiamo al campo di allenamento prima che cambi idea e non cambiare idea merulina ci pensiamo noi a te andiamo subitissimo al campo di allenamento ho saltato la frasetta ma pazienza eccoci qua in realtà non andiamo al campo di allenamento ma andiamo a incontrare agrid nella foresta mamma mamma ragazzi eccoci qua andiamo a vedere dove è agrid 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 eccoci qua impronte di presumo testral che vanno verso agrid con una bella animazione per una volta anche bella fluida e senza bug ma attenzione a dove è ryuk hai detto che avevi una cosa interessante da mostrarmi agrid sì impronte di zoccoli sì ok le ho seguite fino al limitare della foresta di solito queste tracce le tengo segrete ma visto che mi ha aiutato a difendere quel punto interrogativo gallese verde punto interrogativo innocente figurati agrid ti ringrazio di aver pensato a me ma non capisco allora cosa ne pensi di queste tracce splendide vero sì non sono niente di speciale però ragazzi facciamo felice agrid e risponderemo sono affascinanti certo fatemi sapere cosa voi avete risposto e che cosa è successo credo siano affascinanti lo sapevo che ti piacevano secondo te chi le ha lasciate un centrauro un unicorno o un testa o un'idea ma ci ho paura che dirlo ad alta voce poi mi illude quindi voglio continuare a indagare e seguire le tracce per esserne sicuro ma un'altra opinione mi fa comodo così sono sicuro di non vedere quello che voglio vedere non mi piace chiedetelo ancora rocky ma tranquillo agrid mi farebbe piacere aiutarti a indagare sulle impronte dopo tutto no ragazzi ma scusate no ho una domanda era l'altra la missione da fare prima ho fatto quella del testal ma mi sa che prima di quella del testal dovevo fare l'altra cavolino di cavolini non era questa la missione successiva a quella che ho fatto prima perché l'unico modo per salire di amicizia con agrid è fare queste missioni si vede che prima del testal ce n'era un'altra chiedo perdono a tutti chiedo veramente perdono a tutti una nuova avventura non mi farebbe male direi che sceglierò la quarta che mi sembra una cosa molto molto carino molto carina sono curioso anch'io non lo so però cioè sì sono curioso però magari non viene visto bene da agrid quindi una nuova avventura non mi farebbe male sono scelto sono mi piace anzi forse avrei scelto quella lo stesso non lo so stavo pensando che una nuova avventura non mi farebbe male qualcosa che non abbia a che fare con le sale maledette sai se questa creatura è quello che penso sarà di certo un'avventura ma è meglio approfittare finché le tracce sono fresche perché non cominciamo osservando le impronte della creatura tutto ciò mi costerà di meno un autore di meno un autore ok tre orette di energia molto molto bene sono delle ci è passato sopra i piedi balboa si trovi degli escrementi sai che stai andando nella direzione giusta ok nella foresta prebita ci sono gli unicorni vero sì chissà se c'è un po di pelliccia speriamo di no se non si è sentito male no che si tratti di una specie di capra gigante cosa cosa può aver lasciato queste impronte ragazzi non è che stiamo sbagliando la missione ho sbagliato qua non è che non è questa la missione dobbiamo fare aspettate un attimo usciamo un attimo di qua perché non vorrei che a questo punto ho sbagliato missione fai cambiare idea a merula e l'abbiamo fatto no no ok 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 è quella lì è quella lì giusta è quella lì ok 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 chiedo scusa mi è venuto un attimo di mi è venuto un attimo di come si dice di dubbio che potrebbe anche succedere che uno come ci torno lì però come ci torno lì aspettate devo andare qui andiamo dove sta dove sta il nostro amico ryuk che è la stanza ok ok torniamo qua perché a questo punto era quello quello giusto era qua ok 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 non ho sbagliato missione a volte il dubbio viene no a giudicare dalla direzione direi che la creatura è andata da questa parte nella foresta proibita ci sono gli unicorni l'abbiamo già letto ragazzi gli unicorni i centauri di solito non vanno da questa parte di solito ma non credo sia un centauro non si può emozionare con centauro vedi se riesci a capire quanto sono vecchie le impronte non sono un esperto se trovi degli escrementi sai che nel se nel direzione giusta abbiamo letto tutto ragazzi quindi andiamo velocemente a finire le ultime due stelline che ci mancano eccoci qua vediamo un po si ci dovrebbe anche bastare l'energia molto molto bene eccoci qua tutte cinque le stelline ragazzi siamo pronti ad andare avanti mamma mamma raccogliamo tutto e andiamo oltre ci hai dato una buona occhiata alle impronte rocky sì ma temo di non sapere a quale creatura appartengano anche se quella specie di capra strana potrebbe essere lì quella che ho chiamato non mi ricordo come mi sembrano stranamente familiari ma non riesco a identificarle però so che la creatura che ha lasciato quelle impronte era diretta verso l'aula di cura delle creature magiche seguiamo le impronte fin là aspetta rocky se ho ragione questa creatura può essere un tantino pericolosa prima devi essere sicuro di avere abbastanza esperienza nel lavorare con le creature se perfino tu dici che è pericoloso agrid allora deve essere vero prima farò un modo di prepararmi per bene e poi ci incontreremo ok ragazzi mi sa mi sa che in realtà questa era l'altra missione ho sbagliato no 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 aspettate un attimino vediamo un po questo è uno di undici e cavolo era l'ibrido di leone ho sbagliato ragazzi ma può succedere può succedere devo aver premuto per errore quello sopra va bene ragazzi non è successo nulla di di eclatante ragazzi e quindi insomma poi ne andremo a parlare nel video apposito eccetera chiedo perdona tutti ragazzi infatti mi sembrava un pochettino strano cosa c'entrassero quelle impronte lì ma ragazzi eccoci qua insomma abbiamo fatto due missioni vuol dire vuol dire che dopo aver finito questa sarò obbligato diciamo a fare anche quella e quindi insomma siete stati fortunati ragazzi siete stati fortunati fantastico roki tu e il tuo test tral ce l'avete fatta ok merula non è saltata ryuk è pronto a imparare a lavorare con degli stranei mi metterò subito all'opera sai agrid penso che questa volta dovresti lasciare che sia merula a prendere in mano la situazione oh devi esserti confuso balboa ho accettato di dare al test tral un'altra opportunità e di aiutare agrid a preparare il tuo test tral per la confederazione internazionale dei maghi non di prendere in mano la situazione merula ti dico che fa bene prendere in mano la situazione ogni tanto non preoccuparti merula agrid ti dirà cosa fare sai bene che problema non è questo perché sono venuta dovrei andarmene in basta ragazzi incoraggiamo merula ovviamente e ora mi ora infatti mi mi chiedo perché prima non sono riuscito a portare a livello 4 agrid è perché ho sbagliato missione ragazzi cavolini non andartere merula non possiamo preparare ryuk per la dimostrazione di agrid senza di te dai cucciolina mia è merdulina mia ragazzi ovviamente fatemi sapere cosa voi avete scelto ah no il punto è che vogliamo che ryuk si abiti agli strani giusto e visto che tu all'inizio ti sei tenuta lontana probabilmente lui ti considera ancora tale per cui se riusciamo a fare in modo che si senta a suo agio con te sapremo che è pronto per la dimostrazione di agrid beh se davvero avete tutto questo bisogno di me vi accontenterò mi fa piacere sentirtelo dire lavorare a stretto contatto con un test tral ti farà bene merula avrei modo di conoscerlo per come è realmente invece di quello che viene comunemente associato sarà ma in ogni caso sbrighiamoci con questo test tral ho di meglio da fare e quindi ragazzi per l'ultima volta andiamo a prendere altre tre orette di energia per andare avanti con questa avventura mamma mamma mao merula dovrei avvicinarti un po di più a ryuk ma è la più vicina di tutti i test tral sono intelligenti prova a guidarlo con l'esempio in che senso se devi chiamare il tuo test tral urla forte perché ma è accanto a te non sai perché urli merula dovrei questo abbiamo già letto ragazzi prendiamo altra energia che mi sembra giusto dia il tuo test tral che deve smettere di guardarmi in quel modo non sta facendo nulla di male i test tral sono intelligenti prova a guidarlo con l'esempio sì 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 io non parlo di altro test ragazzi ma dice tre cose basta c'è già finito tutto è già finito tutto neanche una stellina è già tutto finito io non parlo non dico non vedo non sento non faccio nulla molto molto male ragazzi ok prima ho sbagliato io ora qua però hanno sbagliato il sviluppatore oh mamma ma la sta accarezzando bene merula continua così allora non hanno sbagliato stanno cambiando i dialoghi questo test tral è così brutto che mi fa quasi tenerezza attenzione abbiamo anche del pubblico lì dietro sembra che merula sia continuando ad affezionarsi a ryuk merulina lei sbaglio merula appena sorriso e quei due li stanno guardando una tizia seduta che fa che tocca al nulla capite il disagio proprio e qua con tutte e cinque le stelline ragazzi mamma mamma questo test tral che questo abbiamo già letto e quindi eccoci qua pronti a concludere questa fantastica avventura allora merula cosa ne pensi dei test tra l'ora che hai lavorato con ryuk c'è una piccola probabilità che l'idea che mi ero fatta sui test tral non fosse del tutto corretta la tua non è la peggiore delle creature che io abbia mai incontrato oh è felice anche lui è felice sembra che anche ryuk la pensa come te merula hai visto che non c'era motivo di avere paura di test tral non avevo paura me ne sono andata perché perché oh perché vedere il test tral ti ha ricordato la morte di cui sei stata testimone quel giorno professor silente la morte si riferisce all'incontro fra i tuoi genitori e un auror che hai menzionato prima merula ovviamente e a cos'altro altrimenti ma come fa a sapere dell'incidente professore io non gliene ho mai parlato è mia abitudine cercare di scoprire cosa turba i miei studenti speravo che facendolo lavorare con un test tral una creatura gentile intelligente che solo chi ha visto la morte può vedere si sarebbe resa conto che anche dalle circostanze più sgradevoli può nascere qualcosa di meraviglioso dopo tutto la tentazione di seppellire un brutto ricordo è forte ma solo affrontandolo si può davvero voltare pagina ha funzionato signorina snide male non ha fatto tradotto dal merulese significa sì mi sembra signorina snide che tu abbia guadagnato qualcosa di più prezioso dei punti della casa da questa esperienza adesso è ora che io agrid e questo test tral ce ne andiamo quindi non gliela date i punti non è grifondoro e quindi niente punti ragazzi c'è che cavolo sei pronto a presentare il tuo discorso alla confederazione internazionale dei maghi agrid sì grazie a rocky amerula senza loro aiuto non sarei riuscito a preparare un test tral in tempo è stato un piacere agrid non dirlo neanche no sono serio allora andiamo aspetta agrid vediamoci nella riserva delle creature magiche al tuo ritorno voglio che mi racconti com'è andata la dimostrazione mamma mamma ma ho tanta roba ragazzi ma quante quante parti mancano perché se è l'ultima la andiamo a fare subito è l'ultima ragazzi andiamo a farla finiamo il video in bellezza finiamo tutto anche perché non posso fare un video con una singola cosa quindi ragazzi siete felici e andiamo a vedere un pochettino sperando che stavolta sia quella giusta che stavolta sia quella giusta ragazzi agrid sei tornato dalla confederazione internazionale di maghi stavolta è giusta e non sono solo con chi sei ciao c'è anche ryuk carino ragazzi e non fare quella faccia rocky lo vediamo ce lo vediamo capito sono felice che sia tornato anche tu ryuk allora com'è andata la tua dimostrazione sui test da dove comincio dall'inizio voglio sapere tutto da otto ore otto ore questo no tre ore che bello fortunato mamma mamma dovevi vedere l'espressione di alcuni maghi che hanno volato in groppa ryuk i membri della confederazione internazionale di maghi ti hanno fatto delle domande e direi di sì no se no ryuk è stato praticamente perfetto dovresti presentarmi a tenebrus uno di questi giorni no grazie basta così persino quelli che non riuscivano a vedere i testa si sono commossi avevi ragione dopo merula e convincere la confederazione è stata una passeggiata energia ragazzi il pixel amato punto ito slash da quini wow sei riuscito a convincere tutta questa la gente si un sacco di gente hai proprio un bravo testa le rocky e lo so lo so l'ho destrato io i membri della confederazione internazionale ti hanno fatto sì l'abbiamo già letto ragazzi sapevo che ryuk li avrebbe conquistati dovevi ok l'abbiamo letta e vediamo un pochettino questa come sta ok è stato praticamente perfetto abbiamo letto tutto quanto e quindi ragazzi mi sbrigo a fare l'ultima stellina eccola qui praticamente ormai è stata conquistata di nuovo ho finito l'energia incredibile ragazzi mamma mamma ma ragazzi abbiamo guadagnato tutte 5 le stelline siamo pronti veramente a concludere questo video raccogliamo le ultime 5 stelline ed eccoci qua mamma mamma mao sempre che il gioco carichi ovviamente perché a questo punto ryuk se ne va perché ha deciso che puzziamo la tua dimostrazione sui test è stata un successo a quanto pare sono fiero di dire che ho fatto cambiare idea sui test tra un sacco di streghe maghi penso che da ora in poi tratteranno i test tra il con rispetto invece che con timore alcuni mi hanno persino chiesto come fare per addestrare da soli di test tra è fantastico agg sono fiero di te non ce l'avrei mai fatta anza di te roki mi hai aiutato a preparare il hook e mi hai incoraggiato a esercitarmi su merula insomma sono davvero un debito con te non preoccuparti agg ci pensiamo poi dammi un sacco di soldi ragazzi fatemi sapere cosa avete scelto voi non preoccuparti agg sono solo felice di aver avuto l'opportunità di imparare ad addestrare un test al così scorto beh se cambi idea l'offerta è sempre valida e soprattutto hai reso un grande servizio a me grazie loghi stai diventando rapidamente uno dei miei migliori amici mamma mamma ma missione compiuta 165 puntozzi più 300 e quindi amicizia di agg del livello 4 in andiamo a confermare cosa ancora ancora no no credo sia semplicemente finito tutto quanto ragazzi quella era la prossima missione voglio andare a controllare che sia vero proprio che non ne sono sicurissimo incontra aggred nella sala grande diamo a vedere un pochettino qua che succede cortile creature magiche sala grande ok ripartivamo con un'altra missione ancora direi proprio di no ma se noi andiamo qui nelle amicizie dovremmo avere in teoria aggred a livello 4 eccolo qua livello 4 finalmente ma ragazzi direi che per oggi è tutto ci vediamo la prossima puntata di riporto quasi mister mi raccomando di lasciare un mi piace iscrivetevi al canale teatro campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate questa nuova fantastica avventura che altro dire fatto il misgatto mammao se anche tu come me non puoi più vedere dei poveri ipogrifi incatenati se anche tu come me non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici allora iscriviti al canale del pixel matto potrai trovare ricette gameplay notizie poteriane e molto altro ancora cosa aspetti iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video il fantastico mondo di harry potter ti aspetta